Prosa, danza e musical, l'Alvia è una nuova stagione culturale per il Maggiore di Verbagna. Si comincia il 23 novembre con una coppia inedita, Piero Pelù e Aldo Cazzullo. Una coppia che definirei rock, imprevedibile, però proprio per questo affascinante, interessante, mi sembra un inizio di stagione straordinario col botto e poi a seguire grandi spettacoli, grandi artisti, sono felice di avere qua a Verbagna Nicola Piovani con la sua musica pericolosa che è un concerto straordinario dove racconta tutta la sua musica meravigliosa, le sue musiche meravigliose e racconta questa sua vita fantastica vicino ai più grandi del cinema. È una stagione dedicata un po' alla leggerezza, al sorriso dopo tanti patimenti, tanta sofferenza, a sorriso intelligente, con dei comici come Lillo e Greg alle Franze che ci portano a comici, faranno molto ridere ma con la loro comicità di alto livello, spettacoli teatrali, molto, mi sono occupata molto quest'anno della drammaturgia contemporanea, grandi nomi, grandi artisti, Umberto Orsini, Branciaroli, Maria Amelia Monti, Maurizio Micheli. Verbagna continua a credere nella cultura come ha confermato il sindaco Silvia Marchionini. Una stagione la sesta che inizia novembre e che vede una programmazione ampia, completa, dal musical alla prosa, nomi di autore, comici, che quindi consentirà alle persone di uscire in sicurezza e godere una serata leggera ma allo stesso tempo che dà alimenti di riflessione. Una delle novità di questa stagione sarà l'apertura al territorio, in particolare con dei pullman dall'Ossola. Sono i pullman, il VCO Trasporti chiaramente si è resa disponibile a sostenere questo progetto. Chiaramente il pullman parte dall'Ossola perché le prenotazioni e le persone, gli spettatori ai quali ambiamo, perché chiaramente è una speranza, vengono dall'Ossola. Per cui la prima tappa sarà a Domodossola, la seconda a Villa Dossola, la terza a Vogogna e poi il percorso all'incontrario.